buongiorno a tutti benvenuti nell'area academy di sps di mitsubishi elettrica e che cosa facciamo con la nostra academy tre cose particolari la prima è la formazione per i clienti la formazione per le scuole e la formazione interna il nostro slogan come vedete è never stop learning non si finisce mai di imparare e gli ambiti dove lavoriamo ovviamente con i clienti siamo un'azienda che vende prodotti e quindi dobbiamo formare i clienti per utilizzare i prodotti in maniera corretta e poi la formazione nelle scuole formiamo le scuole sia a livello universitario sia livello its e anche ovviamente a livello di istituto tecnico superiore che cosa forniamo perché riguarda gli istituti tecnici superiori abbiamo il progetto mentor me che è un progetto in e learning di formazione digitale che dà diritto anche poi dopo aver fatto i corsi di plc cnc robot e anche di cyber security dà la possibilità di ottenere poi dei punteggi pcto i punteggi di pcto può aumentare anche se riusciamo a fare anche poi il progetto di l'attività di progetto work facciamo ovviamente poi anche attività di formazione con le università e lavoriamo moltissimo con gli ts gli ts in particolare chiedono alle aziende di fare la formazione come facciamo la formazione nelle scuole esattamente come con i clienti con i clienti noi usiamo i nostri application engineer e quindi con le scuole usiamo gli stessi prodotti e usiamo anche i nostri application per fare la formazione